Illuminazione notturna mozzafiato, banchetti solidali e musica, così è stata celebrata la diciassettesima giornata nazionale della sclerosi laterale amiotrofica, evento organizzato e promosso da Aisla, con l'alto patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Anci. Palazzi e monumenti italiani si sono colorati di verde per testimoniare solidarietà a pazienti e famiglie, mentre i banchetti di sensibilizzazione e raccolta fondi sono stati allestiti in oltre 300 piazze italiane. Il colore verde è il colore della speranza e noi siamo determinati, questa sera illuminando tutta l'Italia, tantissimi monumenti saranno illuminati di verde, il verde rappresenta la nostra determinazione a voler trovare e offrire la speranza, la speranza di una vita migliore per le persone che sono colpite da questa terribile malattia. Le persone non sono più sole, i ricercatori stanno lavorando e noi attendiamo davvero, con tanta speranza, che finalmente la ricerca possa modificare quel sentiero tracciato da questa terribile malattia. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un evento al Festival della Filosofia di Modena, dove Aisla ha affrontato temi legati alla rimozione delle barriere sociali e all'integrazione dei diritti per le persone affette da SLA. Il momento culminante della giornata è stato però al tramonto quando, grazie al supporto del Lanci, centinaia di monumenti e comuni in tutta Italia si sono illuminati di verde, un simbolo di vicinanza alle persone che convivono con la malattia. Ad aprire le danze Palazzo Chigi, dando il via ad un evento senza precedenti. Sempre a Roma altro momento solenne ed emozionante, con la prestigiosa fanfara a cavallo della Polizia di Stato, che si è esibita in una selezione di brani per poi concludere con l'ino nazionale di Mameli. Anche quest'anno siamo qui, io sono qui per rappresentare il governo italiano, per dire grazie alle tante organizzazioni come Aisla, che ogni giorno supportano i pazienti con SLA, le loro famiglie che danno informazione, assistenza, conforto. Sono fondamentali per non far sentire le persone sole, perché nessuno deve risentirsi solo, nessuno deve rimanere indietro. E allora è un modo anche in questi due giorni per dire a tutti di dare un contributo, un contributo alla ricerca, perché è quello che può davvero cambiare l'esistenza delle persone. Con la sua quarantennale esperienza nell'assistenza, nella formazione, nell'informazione e nella ricerca scientifica, Aisla è al servizio delle famiglie che convivono con la SLA. Solo nel 2023 l'associazione ha destinato un finanziamento di oltre 200 mila euro alla ricerca scientifica. Eppure Aisla non è solo solidarietà, è qualcosa in più che va oltre. La SLA si può curare, quindi se l'abbiamo fatto per alcuni lo possiamo fare per tanti, la ricerca deve procedere speditamente, che questa è una battaglia che va vinta in tempi rapidi. Queste persone meritano questa attenzione perché si migliora la qualità e la durata di vita. E questo, la giornata di oggi, deve tenere accesa la luce su un tema che spesso viene trascurato. Questi due giorni per sensibilizzare e sostenere la ricerca su questa malattia rara sono la dimostrazione che solo facendo squadra si vince la battaglia, perché la gioia di vivere è contagiosa.